Ridurre spese e inconvenze dei buoni pasto finanziando anche progetti sociali è quanto promette il progetto di innovazione sociale con di vivi realizzato dalla start-up Bolzanina, Sibus Pay e dalla cooperativa sociale La Rete, sfruttando le possibilità concesse dalle nuove tecnologie per azzerare o quasi il lavoro amministrativo delle aziende che erogano buoni pasto e quelle normative per aumentare i margini di profitto dei ristoranti. Data l'esenzione da contributi riservata ai buoni elettronici che sono deducibili al 100% e hanno IVA agevolata detraibile. Mettendo assieme le due cose e in collaborazione con la cooperativa sociale La Rete, la start-up Bolzanina, Sibus Pay, ha realizzato l'app con di vivi attraverso la quale è anche possibile devolvere l'1% di ogni pasto a un'organizzazione territoriale per progetti sociali che saranno selezionati da un comitato scientifico. Un'azienda precarica la cifra del pasto aziendale, ha una defiscalizzazione totale del pasto e il ristorante non ha le quote percentuali di buoni pasto ma ha una quota che arriva fino a un 4%, normalmente in Italia la media è del 20%, quindi è vantaggiosa per i ristoranti, è vantaggiosa per le aziende e ogni pasto genera un impatto sociale sul territorio. Nascendo dal punto del ristorante conosciamo le criticità, il ristoratore avrà dei costi estremamente sostenibili, le fatturazioni verranno gestite dalla nostra applicazione, i pagamenti saranno molto più rapidi perché noi paghiamo a differenza di tutti gli altri che pagano a 60-90 giorni, noi paghiamo ogni 5 giorni.